Attesa per luglio, che sarà un mese cruciale, specie nella prima parte, per il futuro del Teramo, perché giugno, di fatto, se n'è andato con l'inoltro della domanda di iscrizione al prossimo torneo. E adesso esce di scena la parte bianco-rossa della questione per fare spazio alla Covizoc, che dovrà controllarne la regolarità e dare l'ok o meno alla partecipazione. Il primo luglio, proprio la Covizoc, comunicherà alle società le eventuali bocciature. Entro il 6 andranno presentati i ricorsi e poi l'8 il Consiglio federale comunicherà gli esiti. Difficile in questo momento fare delle previsioni, quello che è certo invece è la volontà del diavolo di dare battaglia a tutto campo, ritenendo di aver espletato tutto quanto era richiesto e che il famoso indice di liquidità non possa essere ostativo alla partecipazione al campionato. Regine e Triestina, due delle formazioni insieme al Messina che sembravano a rischio, con un cambio repentino della compagine societaria, hanno evidentemente avuto la forza di sistemare quello che serviva. Chiaramente il Teramo non aveva la stessa possibilità, posto che c'è una parte, la più consistente della compagine, che ha a che fare con un sequestro conservativo delle quote, congelate fino a decisione contraria. E l'istanza di sblocco last minute di mercoledì pomeriggio, respinta nuovamente dal Tribunale di Roma, dimostra che di tempo per risolvere la vicenda ce ne vorrà ancora un po'. Certo è che il diavolo è pronto a fare la sua parte nelle aule della giustizia sportiva. Nel frattempo, la parte più calda della tifoseria non ci sta. Chiede che l'attuale dirigenza si faccia da parte e lo fa con un messaggio esposto sotto la curva S del vecchio comunale, luogo simbolo degli ultras biancorossi. Intanto, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato di evidente sproporzione tra i sacrifici a cui sono sottoposti i presidenti di Serie C, rispetto ad un calcio, quello di A, che di partenza ha mezzi evidentemente maggiori. 12 milioni di euro contro 4 milioni e 300 mila. La prima, ha detto Ghirelli, è la somma versata dai presidenti nelle società di Serie C per ricapitalizzarle e adeguarle ad un indice di liquidità fissato allo 0,7%, che vale anche per la Serie B. La seconda pare a circa un terzo della prima e la somma versata nelle casse delle società di Serie A per affrontare il prossimo campionato con un indice pari allo 0,5%. Un calcio, come quello italiano, che matura ogni anno uno spaventoso deficit di 1 miliardo e 300 milioni di euro e che rifiuta di adeguarsi anche ad un indice di appena lo 0,5%, è un calcio lontano da quegli obiettivi di risanamento e sostenibilità che costituiscono un presupposto imprescindibile per il suo rilancio. Ringrazio i presidenti dei club, ha concluso Ghirelli, che con la loro azione imprenditoriale e con un concreto sacrificio finanziario hanno dato reputazione al calcio che fa bene al paese e credibilità alla fabbrica dei sogni. Nei prossimi giorni sarà mia cura sui tavoli istituzionali competenti avere un riconoscimento tangibile a favore dei club di Serie C. In questo momento, però, la partita si sposta a luglio, come detto, e in sede, probabilmente giudiziaria, a meno che il diavolo non riesca ad evitare il primo stop da parte della Commissione di Vigilanza delle Società. I tempi sono quelli che sono, bisogna attendere, e la possibilità di programmare la prossima stagione ha comunque delle incognite, che il Teramo non può risolvere adesso perché dovrà aspettare le pronunce degli organi competenti. Non certo il modo migliore di vivere l'estate. Grazie a tutti, grazie a tutti.